Bella a tutti ragazzi, qui è FIFA Raptors che vi parla e oggi sono qui per presentarvi questo contest per FIFA 14 su PC da 200.000 crediti. Le regole per partecipare sono molto semplici, cioè iscriversi al canale, mettere mi piace a questo video, mettere mi piace alla pagina Facebook che sarà appunto in descrizione e infine commentare qui sotto scrivendo partecipo. Il sorteggio verrà effettuato al raggiungimento dei 30 partecipanti, qui è tutto da FIFA Raptors, bella!